Secondo me nel complesso abbiamo fatto una buona gara, condita da qualche errore che comunque commettiamo ancora di qualche leggerezza, di qualche lettura, ma è normale, è un modo di giocare diverso per tanti di questi ragazzi, però sono contento perché secondo me abbiamo fatto un'ottima gara e nel primo tempo potevamo sfruttare meglio i spazi che noi ci andavamo a creare. Ma ripeto, questi ragazzi è la prima volta che giocano con questo sistema, con questi concetti, tanti sono giovani e sono felice perché poi dopo siamo stati in partita fino alla fine e questo è merito dei ragazzi che non hanno mai mollato, anche negli ultimi minuti ci hanno creduto sempre e poi dopo in un guizzo finale abbiamo giocato con tutti gli attaccanti e ci ha premiato. Oggi era importante il minutaggio, sicuramente la Coppa è importante perché dobbiamo dare rispetto a tutte le competizioni sicuramente e dispiace, però dobbiamo guardare avanti, dobbiamo crescere, anzi dobbiamo lavorare sugli errori fatti che sono stati diversi. Sì, perché anche l'anno scorso abbiamo preso gol sul finale, tu hai rimbaltato per quanto riguarda la partita, anche se penso che la squadra abbia... È normale che il calcio di agosto lascia il tempo che trova, però abbiamo fatto anche discretamente rispetto a quello che pensavo io, nelle distanze tra i reparti, siamo arrivati molte volte alla conclusione, magari siamo stati poco lucidi nella scelta finale sicuramente, però dobbiamo crescere, dobbiamo lavorare e ci serve questa partita. Grazie. 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 Grazie.